Un gruppo di amici, una famiglia, una gita, in bicicletta, sembra una scampagnata come tante e invece è un viaggio straordinario. È nato dal coraggio e dalla tenacia di Giulio Noci che non ha voluto negare a suo figlio Andrea, nato con una rara malformazione genetica e il sapore semplice di una biciclettata con gli amici, la normalità di una vacanza in famiglia. Così con una bici speciale di supporto di Unitalsi il sogno è stato realizzato. È un evento che riguarda un po' tutto all'Unitalsi perché quello che hanno fatto Federica e Giulio insieme al piccolo Andrea è quello che l'Unitalsi vorrebbe fare nel quotidiano, è il desiderio di avere un po' di normalità. Per la famiglia Noci quella di oggi è stata solo una delle tante tappe di un'estate che le ha viste arrivare fino a Lourdes poi ripartire da Pistoia alla volta della capitale. Nel 2010 Papa Giulio ha partecipato anche alla Marcia della Pace con la squadra di ciclo amatori Oscar Romero che lo ha portato fino ad Assisi ed è lì che è nata l'idea di portare Andrea in bicicletta. Non pedala ma fa molto di più, ha la forza a noi di pedalare. La vita vale sempre la pena di viverla, se lui soffre io soffro con lui e sono al suo fianco. Lassù il suo dolore è stato il mio, le sue gioie sono state le mie. Lui domani non ci potrà essere più ma io ne vale la pena.